Benvenuti al Gran Premio Città di Apitene Memorial Pettinati e Marauda, una gara notturna tipo pista che prenderà, vedrà correre su questo circuito le categorie G4, G5, G6 esorbienti di primo e secondo anno e la categoria allievi tutti insieme. Un percorso che parte da via Mendola, da via Dalleazzo, Sorse Divisione, via Crenna, via Maglino Ferrari, via Quattro Monomere che ritorna in via Mendola per un totale di 985 metri, questi 985 metri messi in sicurezza dai ragazzi dell'intensità dell'attività. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!